I carabinieri della Compagnia di Lago Negro, su disposizione della Procura di Lago Negro, hanno eseguito lunedì scorso due misure cautelari e distrattive, nei confronti di un 39enne e di un 21enne di Frangavilla e di Policoro, con l'accusa di rapina ai danni di una signora di 86 anni di episcopia. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa dal procuratore capo Vittorio Russo, dal capitano della Compagnia dei Carabinieri di Lago Negro, Luigi Salvati Tanagro e dal comandante della stazione di Latronico, il maresciallo Mauro Antinolfi. Ci sono stati in quest'ultimo periodo numerosi episodi in danno di persone anziane che vivono magari da soli in abitazioni non del centro storico ma spesso anche un po' isolate e questo ha determinato in questa zona notevole preoccupazione e allarme. In questo caso si è riusciti ad identificare due persone che si erano introdotte nell'abitazione di una persona 86enne che viveva in una casa non del centro storico del comune di episcopia, in un piccolo paese della Sinnica e riuscendo a sottrarre una somma considerevole, circa 7.000 euro in contanti, oltretutto strattonando e facendo cadere in terra e determinando quindi una situazione di lesioni poi nell'anziana vittima del reato. C'era stata anche una lieve colluttazione, i due malviventi e la signora, che accortasi del raggiro aveva tentato di bloccarli prima nella camera e poi sulla scala, facendo così cadere ad uno dei due una parte del bottino. Siamo riusciti ad identificare i due anche in considerazione del fatto che gli stessi poi, nello stesso giorno, nella stessa zona, con analoghe circostanze, avevano commesso un altro reato in danno di un'altra signora anziana che viveva pur essa da sola in un'abitazione non distante dall'altra. E quindi, riuscendo i carabinieri operanti, riuscendo a coordinare le deposizioni delle due vittime, sono stati in grado, prima di realizzare un identikit, poi di acquisire delle immagini fotografiche e quindi dalle deposizioni e dai riconoscimenti fotografici che poi sono stati fatti dalle persone stesse e da alcuni testi poi si è riusciti ad identificare i responsabili di questi odiosi episodi in danno di persone così anziane.